Sabrina, non posso, sono impegnato. Impegnato? Sì, e anche molto. Sì, certo. Mezzomondo è sdraiato sul divano con la bava alla bocca inerme e lui è molto impegnato. Sono a un matrimonio. Ma dai! E io sono un addio annubilato a Las Vegas. Non senti? Che confusione! A me! Sarà perché ti ami! È un'emozione! Ne hai ancora per molto, cretina? Cretino tu! Guarda che si vede benissimo che sei a casa. Sono a un videomatrimonio. Siccome adesso non si possono fare gli assembramenti, loro hanno deciso di fare il loro matrimonio online e mi hanno invitato. Che bello, Marco! Io adoro i matrimoni! Posso partecipare anche io come congiunta? Dai, mandami il link! Cioè, vuoi fare la video imbucata? Non se ne parla proprio, o no? E dai, Marco! Sono due ore che sto sul balcone ad annoiarmi e guardo i piccioni, che poi sono anche belli, eh! Ah, quanto vorrei essere un piccione, Marco! Cioè, tu vorresti essere un piccione? Sì, fanno un sacco di assembramenti. Non portano la mascherina e nessuno gli dice niente. Beati loro! Sabrina, tu non stai bene. E infatti, Marco! Dai, almeno fammi la telecronaca di quello che sta accadendo! Ma no! Non ho nessunissima intenzione di fare il Fabio Caressa dei matrimoni! Il chi? Lascia perdere! Shhh! Dai, amico! Ti prego, ti prego, ti prego! Ok, 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 ok! Basta che la finisci! Va bene? Allora, adesso sta parlando il prete. Sta dicendo... Shhh! Shhh! Abbassa la voce! Ma perché? I che ci sentono? Beh, ma fa tanto chiesa. Allora, sta dicendo... Aspetta! Devi farmi il riassunto delle puntate precedenti! Cioè? Tipo, lui povero ma bello, lei ricca frustrata, queste cose qua. Praticamente la trama del Titanic. Sì, speriamo che non facciano il viaggio di nozze in crociera. Anche se con queste restrizioni, secondo me, al massimo vanno a Valmontone. Bella la crociera a Valmontone! Senti, Sabri, allora, se vuoi che ti faccio questa cosa, la devi smettere di interrompermi, oh! Sì, va bene! Mamma mia, scusami! Parliamo di cose serie. Com'è l'abito di lei? E com'è? La solita meringa con la panna sopra. Bello! Adesso c'è il momento delle promesse. Marco, Marco, è già arrivato il momento quando dice se qualcuno è contrario, parli ora o taccia per sempre. Sabrina si sposano a Tagliacozzo, non a Dallas. Un peccato, fa tanto suspense. Comunque, si sono detti sì e adesso si scambiano le fedi. Adesso c'è il momento del bacio. Marco, vieni qui, tieni! Devi guardare bene se è un bacio con l'appoggino, la lingua appunto, frullatore. No, no, adesso tu mi dici che com'è un bacio con l'appoggino ha frullatore. Forza, dimmelo, dimmelo! Eh, Marco, ma perché ti arrabbi tanto? Senti, Sabrina, il matrimonio è finito, puoi andare in pace. Eh, no, no, c'è il momento più romantico. Aspetta un secondo, Marco. Sabrina? Sabrina, che fai? C'è il lancio del riso. Pronto? Evviva gli sposi! Oh no, i piccioni, no, Marco! Ti apri i piccioni! Ti apri! Ti apri! Sabri, com'è andato il tuo assembramento con i tuoi amici piccioni? I piccioni sono uccellini cattivi. E io odio i matrimoni. Che confusione sarà perché ti amo. Che vola, vola con me e stammi più vicino. E se l'amore non c'è, ma dimmi dove siamo. Che confusione sarà perché ti amo. Ciao, ciao.